Continuiamo quello che è il corso. Sostanzialmente abbiamo detto nella scorsa lezione che cos'è il risk management, che cos'è appunto il testing, come farlo, eccetera. Oggi andiamo a parlare di analisi tecnica. Un po' più nel dettaglio andiamo a parlare di pattern in questo caso. I pattern, a volte chiamati anche modelli, sono appunto dei modelli tipici di configurazione del prezzo attraverso le candele giapponesi oppure nel grafico di trading. Il pattern trading si riferisce quindi a quei grafici di prezzi che i trader utilizzano per aiutarsi a prendere decisioni. Allora, anticipo che questa definizione non l'ho scritta io e probabilmente scritta così sembra un po' difficile da capire, ma in realtà è molto semplice. Per farvi un esempio, qua abbiamo un tipico pattern in analisi tecnica, abbiamo sia il doppio minimo che il doppio massimo, che alla fine è la stessa figura, solo che è girata al contrario. Una volta che si verificano queste forme a mercato, noi possiamo prendere una decisione. Ad esempio, quando c'è il doppio minimo il prezzo tende a salire, quando c'è il doppio massimo il prezzo tende a scendere. Ok? Quindi sostanzialmente sono delle forme che ci solitamente tendono a darci un'idea di quello che potrebbe succedere. Ora, qual è il punto? Funziona al 100% delle volte? Assolutamente no, ok? Però ci hanno una buona probabilità di riuscita. Abbiamo anche il testa a spalle, quindi abbiamo il testa a spalle, vedete una spalla sinistra, testa, spalla destra, al contrario anche spalla sinistra, testa, spalla destra, e sono entrambi pattern di inversione sostanzialmente. Pattern di inversione, ovvero che quando vi è un uptrend e troviamo una testa a spalle, solitamente vi è un trend reversal, quindi un cambiamento di trend. Al contrario, qua abbiamo un downtrend, testa a spalle invertito, poi c'è un breakout di quello che è la neckline, che sarebbe quella fascia di prezzo che va a comprendere i due minimi, in questo caso vedete, i due massimi in questo caso chiedo scusa. Una volta viene rotta, il prezzo può andare a rialzo, ok? Come potete vedere qua abbiamo un testa a spalle normale, infatti il prezzo, vedete, spalla sinistra, testa, spalla destra, spalla destra e iniziato a scendere. Poi abbiamo al contrario, testa a spalle inverso, spalla sinistra, testa a spalla destra e iniziato a salire, ok? Quindi sono dei pattern che vi possono aiutare a capire quello che potrebbe succedere. Bull flag and bear flag. Allora, sostanzialmente vedete così per la forma a bandiera, come potete vedere, ok? Dall'inglese flag significa bandiera, e sostanzialmente sono pattern di continuazione, ovvero che se proveniamo da un trend, da un uptrend, appunto da un trend rialzista, poi abbiamo una sorta di range, diciamo così, che fa una bandiera, diciamo, il prezzo tende a salire. Al contrario, il prezzo tende a scendere. Come potete vedere qua abbiamo una bear flag, ok? Il prezzo stava scendendo, bear flag, il prezzo stava scendendo, bear flag, il prezzo scende. Bull flag, il prezzo sale, bull flag, sale, bull flag, sale. Quindi questo è un pattern che ci può dire, ok, il trend potrebbe continuare. Ok, quindi ha un'ottima probabilità anche questo pattern. Analisi tecnica, pattern triangolo ascendente, discendente. Abbiamo il pattern triangolo ascendente, quindi significa che appunto si forma questi minimi, tutti quanti, in ordine crescente, e poi abbiamo tutti i massimi sullo stesso livello di prezzo più o meno. Questo viene detto triangolo ascendente perché poi il prezzo rompe quello che sono i massimi su questo livello di prezzo e tende a continuare a rialzo. Quindi questo è un pattern di continuazione, ok? Quindi già ci deve essere un trend rialzista, poi si verifica il pattern per continuazione del trend. Al contrario, discendente, triangolo discendente, prezzo scende, triangolo, e poi continua a scendere. Questi sono pattern statistici, ok? Si dice pattern trading. C'è gente che trada unicamente con pattern simili. Eccoli qua, ok? Abbiamo pattern ascendente, pattern discendente, come esempi, ok? Triangolo ascendente e discendente. Abbiamo pure questi due tipi di pattern che sono entrambi pattern di continuazione, quindi una volta che si verificano, come potete vedere, tende il prezzo a rispettare quello che è il trend rialzista. E qua appunto abbiamo poi il rising edge, wedge, sostanzialmente che il prezzo una volta che rompe quello che è l'ultima trend line, allora il prezzo tende a scendere sostanzialmente. Parliamo ora di break retest. Break retest è molto conosciuto, ovvero che quando vi è un supporto e poi viene rotto, abbiamo un retest. E tu trader potresti pensare di entrare in sella sostanzialmente. Ancora meglio se proveniamo da un trend ribassista. Qua abbiamo che cosa? Un break retest invece qua della resistenza. Ricordiamo che la resistenza è un insieme di massimi, tutti sullo stesso livello, come il supporto è un insieme di minimi, tutti sullo stesso livello. Una volta rotta la resistenza aspettiamo il retest e poi si entra in buy. Come potete vedere qua abbiamo una resistenza rotta, break, della resistenza, retest e si sale. Parliamo ora di canali paralleli. Cosa sono i canali paralleli? I canali sono comunque delle figure di mercato, delle figure del prezzo sostanzialmente dei mercati, che sostanzialmente possono essere descritte da due linee parallele. Abbiamo tutti dei minimi crescenti, anche qua massimi crescenti, che possono essere ovviamente descritti tramite due linee parallele. Noi possiamo utilizzare semplicemente questi canali per anticipare i prossimi movimenti. Ad esempio, se qua abbiamo che il prezzo è arrivato su questa resistenza creata da questa linea di tendenza, il prezzo tenderà a scendere. Come potete vedere qua c'è proprio l'esempio lampante, ovvero che qua abbiamo diversi massimi, poi il prezzo sta per toccare quella che è la linea e poi quindi tenderà a scendere. Possiamo prevedere il prezzo utilizzando quindi i due tipi di canali. Poi abbiamo triplo minimo e triplo massimo, che sono dei pattern molto conosciuti, dove abbiamo tre massimi tutti sullo stesso livello o tre minimi tutti sullo stesso livello. Come funziona? Funziona che una volta che viene rotto l'ultimo minimo, quindi qua in questo caso, allora noi possiamo pensare di entrare in sell. Qua quando viene rotto l'ultimo massimo, noi possiamo pensare di entrare in buy. Molto semplice ragazzi. Qua abbiamo, vedete, tre massimi, il prezzo rompe quello che era il supporto di giù e inizia a scendere. Analisi tecnica trend line, quindi come prima abbiamo parlato di canali, diciamo che i canali sono costruiti proprio grazie alle trend line. Abbiamo la trend line realzista, quella sulla sinistra, quindi dei trend realzisti, e abbiamo poi la trend line ribassista, che viene detta anche resistenza dei trend ribassisti sostanzialmente. Quindi qua abbiamo una trend line per i trend realzisti, qua abbiamo una trend line per i trend ribassisti. Questi sono due tipi di trend line, quindi abbiamo la trend line, vedete, come si traccia una trend line dal primo ombra della candela, dall'ombra di una candela, si dilunga fino al secondo punto successivo e poi si dilunga la trend line. Come potete vedere, poi ci avrebbe dato questo, il prezzo quando è arrivato in questo punto, fatto il terzo tocco, è iniziato a salire. Stessa cosa qui. Primo punto, secondo punto della trend line, il prezzo quando è arrivato a fare il terzo tocco, ok, il prezzo tende a scendere. Ancora qui, abbiamo poi le trend line no week, che è un altro tipo di trend line, ovvero un tipo di trend line dove vengono escluse praticamente le ombre. Quindi voi tracciate la classica trend line, ma tagliate le ombre delle candele. Poi questa, un altro tipo di trend line, funziona alla stessa maniera della prima. L'unica cosa è che si vanno a tagliare le ombre delle candele successive. Ok? Qui qua vedete prima, seconda, terzo tocco e il prezzo scende. Poi abbiamo uno dei pattern ovviamente più conosciuti delle trend line, ovvero che quando viene rotta una trend line, cosa abbiamo bisogno fare? Si fa sempre la stessa cosa, ovvero break della trend line, rottura, poi c'è un ritest e noi da ritest entriamo. Rottura della trend line, ritest e si entra in sell. Quindi questo è un pattern che possiamo utilizzare per entrare in inversione di trend. Analisi tecniche a livelli chiave. Questi sono livelli dove il prezzo tende molte volte a reagire. Vedete? Tocco, 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 tocco. Quindi sono tutti livelli che il prezzo li sente parecchio e possiamo utilizzarli a nostro vantaggio per effettivamente prevedere un'ipotetica reazione del mercato. Abbiamo supporto e resistenza. Questo diciamo, supporto e resistenza sono sostanzialmente supporto all'insieme di tutti i minimi massimi che poggiano sulla stessa fascia di prezzo. Quando il prezzo tocca un supporto tende a rimbalzare verso l'alto. Resistenza invece è stessa cosa, tutti i massimi sulla stessa fascia di prezzo. Quando il prezzo tende a toccare la resistenza, il prezzo tende a scendere, quindi a rimbalzare verso il basso. Parliamo ora di indicatori. Gli indicatori cosa sono? Gli indicatori sono strumenti basati su uno studio algoritmico del prezzo, del comportamento del prezzo. Quindi gli indicatori ci servono per capire cosa sta facendo attualmente il prezzo, non cosa andrà a fare. Cosa sta facendo attualmente? Noi studiamo il comportamento attuale del prezzo. Uno degli indicatori diciamo più conosciuti è pure l'EMI a 50, quindi sarebbe la media esponenziale a 50 periodi. Ok? Semplificando è un indice utile per identificare i trend. Per farvi un esempio, una volta che voi andate su TradingView, voi su TradingView andate e cercate indicatori, cercate EMA, questa qui dovete cliccare. Impostazioni, mettete inputs, 50 e voi vi siete ottenuti sostanzialmente una linea che va a descrivere il trend. Ora, è molto semplice da seguire. Quando la linea è sotto quello che è il grafico, vuol dire che il trend è rialzista. Quando è sopra, come potete vedere in questo caso qua, vuol dire che il trend è rialzista. Ok? È precisa al 100% questa linea? Come ogni cosa nel trading, assolutamente no. Ok? Però può essere una conferma in più per dare validità alle nostre analisi. Poi abbiamo l'RSI che potete trovarlo alla stessa maniera come abbiamo digitato EMA. Possiamo digitare RSI e con questo acronimo, con questo nome sostanzialmente, andate a digitare e vi troverete quella che è l'indicatore. Come si utilizza? In realtà è molto semplice. Troverete che avete due linee, una sopra e una sotto. Ok? Una magari in verde, una in rosso, decidete voi i colori. Quindi, una volta che il prezzo si trova sopra questa linea qui, significa ipercomprato e quindi tende, voi dovete pensare ad un sell. Ok? Quando invece sta troppo sotto, sotto questa linea, si dice ipervenduto. Quindi voi potete pensare a un buy. Ok? Quindi è un indicatore che ci supporta quelle che sono eventuali scelte, se entrare in buy o in sell. Consiglio di utilizzarlo da solo? Assolutamente no. Ok? Dovete utilizzarlo insieme ad altre conferme. Può essere sicuramente utile in questa maniera. Abbiamo pure le medie mobili, non esponenziali stavolta, medie mobili solo, di 8 e 21 periodi. Cosa succede però? Che quando si incrociano, ok? Vedete qua si sono incrociate ad esempio, significa inversione di trend. Quindi da trend ribalsista siamo diventati, siamo passati a un trend ribalsista. Ok? Vengono utilizzate in questa maniera. Pure queste devono essere utilizzate come conferma in più. Analisi tecnica, indicatori EMA 200, stessa cosa delle EMA 50, abbiamo però un input diverso qua, da 200. 200 periodi significa che la media è delle ultime 200 candele. Come anche 50 periodi, la media è delle ultime 50 candele. Il punto qual è? E che questa può essere utilizzata esattamente come utilizzate le EMA 50 per capire qual è il trend. Va bene signori, siamo arrivati al termine di questo video. Oggi abbiamo parlato un po' di pattern, di analisi tecnica e di indicatori. Potete utilizzarli sicuramente a vostro vantaggio per migliorare di gran lunga quella che è la vostra analisi a mercato, la vostra strategia. E dalla prossima, ovviamente, lezione andremo a parlare, nel prossimo video andremo a parlare di quello che è Fibonacci, come utilizzare il nostro vantaggio. Ok? Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande scrivetele nei commenti o ci contattate via i contatti che trovate nel link descrizione. Detto ciò ragazzi, io vi auguro una buona giornata da tutti quanti e al prossimo video. Grazie a tutti.